Professore, questa mostra dedicata a Tolkien è un unicum perché abbiamo sentito prima Nicosia, 1300 manufatti, opere, le statuette concesse dalla Warner, lettere, tanti manufatti originari. Ecco, che emozione è portare il professore per la prima volta in Italia in questo modo? Beh, è una grande occasione di raccontare un autore che ha condizionato nel bene la letteratura, nell'immaginario di questi ultimi 50 anni e portarlo in Italia finalmente con una mostra ufficiale, organizzata con queste specifiche caratteristiche è una gioia per gli appassionati, sarà anche una scoperta per chi non conosce Tolkien ma ha intenzione di conoscerlo. Alcuni hanno tentato di politicizzare la mostra, lei cosa risponde a queste accuse, tra virgolette? Beh, la risposta, ognuno è libero di dire ciò che vuole, la risposta sarà nella mostra, invitiamo a vedere la mostra, a visitare la mostra, qualcuno si ricrederà e capirà che la mostra è un omaggio a un grande uomo, un grande autore, un grande scrittore. Qual è l'eredità di Tolkien secondo lei oggi ed è paragonabile magari a quelle che ci hanno lasciato i nostri grandi padri della letteratura italiana, penso, non lo so, proprio a Manzoni perché oggi si celebra anche Manzoni? Beh, Tolkien ha lasciato e assegnato tutte le arti, non solo alla letteratura, si tenga presente che ha condizionato la musica, molti gruppi, normalmente mi vengono le Zeppelin o ad esempio il mondo dei fumetti, giochi di ruolo, malarte, tantissimi artisti. È un autore, ormai un classico, che sa parlare a tutte le generazioni, di tutte le culture, di tutte le lingue, di tutti i credi e riesce finalmente a portare ciò che Di Bello ha fatto negli anni della sua produzione letteraria. Grazie.